Appena inaugurata è già fonte di disaccordo tra le forze politiche. La pista ciclopedonale nuova di Zecca di Sant'Orso, anello di una catena più lunga di interventi dell'amministrazione comunale per un quartiere modello e a misura di pedone bambino, ha fatto accendere però i riflettori sulla criticità che permangono a detta dell'opposizione in questo popoloso quartiere, diviso tra parte storica, primo nucleo urbano e zone più recenti, a ridosso della superstrada, tagliate in due da via Soncino. La Lega Fanese ha presentato in queste ore una mozione che contiene proposte migliorative per il quartiere e con un'interrogazione chiede anche chiarimenti sui soldi delle casse comunali spesi per questa opera e immediati interventi su tutta la viabilità della zona. Sì, per carità, ben vengono nuove piste ciclabili nella nostra città, però quando vediamo che si spendono così tanti soldi, ben 130 mila euro, e poi il risultato è scarso perché di fatto mette ancora più in pericolosità gli automobilisti e i ciclisti della zona, dove denotiamo anche delle problematiche come l'autobus che non entra nella piazzola di sosta o degli ostacoli addirittura sulla ciclabile, secondo noi poteva essere fatto questo intervento a minor costo e sistemando anche altre zone di Sant'Orso che invece meritano molto di più un intervento, come tutta la parte vecchia di via Galileo Galilei, la stessa via Bellandra o le altre zone di via Soncino, perché via Soncino non termina qui dove siamo noi, ma termina molto più avanti. Comunque al di là delle critiche vorremmo anche proporre delle iniziative, quindi abbiamo presentato un documento come Lega dopo averlo condiviso con i cittadini, quindi i residenti, i commercianti della città, un parcheggio davanti al ristorantino Le Rose che comunque è carente di parcheggi in questo momento. Oltre questo chiediamo immediatamente di rimettere a posto il cartello sulla velocità, perché attualmente in via Soncino purtroppo le auto vanno molto veloce. Chiediamo sicuramente più sicurezza, ma anche maggiore attenzione alla parte tra virgolette vecchia di Sant'Orso, quindi via Galileo Galilei e anche tutte le vie che necessitano sicuramente di una sistemazione completa. Siamo in un altro punto dove la viabilità avrebbe bisogno di un intervento importante. Sì, un'altra proposta che vorremmo avanzare è quella dell'istituzione di una rotatoria in questo incrocio, perché alla fine fungerebbe anche da deterrente per tutte le persone che arrivano dalla zona di Bellocchi, che spesso arrivano ad alta velocità. La proposta che avanziamo come Lega è quella di istituire una rotatoria qui che permetterebbe sicuramente a tutti coloro che escono anche di via Visconti e che attualmente attraversano la strada in modo improprio, perché ci sarebbe l'obbligo di svolta a destra e quindi non si potrebbe andare su via Magalotti qui di fronte, la nostra proposta appunto è quella di una piccola rotatoria che fungerebbe da deterrente e rallenterebbe il traffico della zona.